volete sapere se esistono e nel caso quali siano i colori che iniziano con la z allora vi invitiamo a proseguire in questo video di seguito infatti avrete modo di capire se effettivamente esistono dei colori aventi la z come iniziale scoprendo eventualmente quali siano e le loro particolarità il numero totale di colori è limitato così come quello delle sfumature fra di loro ognuno di essi presenta un preciso nome che lo rende diverso da ogni altra colorazione esistente se pensassimo ai nomi di tutti i colori che conosciamo ci renderemo presto conto di come noi tutti saremo in grado di trovare molti colori che iniziano con diverse lettere ma sono molto difficilmente potremmo ricordare una colorazione che presenti la z come lettere iniziale per questo c'è chi si chiede se esistono realmente dei colori che iniziano con tale lettera possiamo rispondere a questo quesito con un sì dato che esistono dei colori con questa particolarità nel nome sono zinco, zaffiro, zafferano e zafferano profondo stiamo per trattare meglio questi colori in modo che possiate conoscere le peculiarità di ognuno di essi zafferano è un colore che prende il nome dalla famosa spezia molto apprezzata e impiegata in cucina è stata di un colore giallo intenso che si avvicina a quello della spezia di frequente confuso con il giallo ocra pur non essendo per nulla simile a esso il giallo zafferano si differenzia dal giallo ocra per essere una sfumatura più viva e briosa che tende in maniera minore al colore nocciola infine questo colore può essere trovato con varianti differenti alcune con sfumature più vive altre più leggere zinco è una sfumatura di verde giallo abbastanza leggera pur essendo viva e chiara in certe tonalità viene scambiato con il giallo pastello poiché visivamente non molto differente si differenzia in ogni caso da esso per alcune precise caratteristiche zaffiro una tonalità di blu molto raffinata il colore zaffiro si distingue per essere molto forte ma allo stesso tempo non scuro il suo nome proviene dalla nota gemma che presenta infatti un colore blu intenso il colore zaffiro può presentarsi in tante sfumature e varietà zafferano profondo questo colore rappresenta una fra le più importanti varianti del colore giallo zafferano lo zafferano profondo è più scuro e forte del classico giallo zafferano il colore non solo presenta una maggiore intensità ma anche un aspetto più aranciato rispetto al comune zafferano non a caso lo zafferano profondo viene frequentemente scambiato per una sfumatura di arancione vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro sito ufficiale troverete tantissimi articoli sia sulla grafica sia sui colori che sui software di grafica principali disponibili al momento tutti gli articoli sono gratis e inoltre vi ricordiamo che nel nostro canale youtube troverete tantissimi video proprio su questi argomenti quindi se siete interessati ad approfondire date pure un'occhiata al sito o al canale youtube ci vediamo al prossimo video